Ciao a tutti gamers e bentornati sul canale di Giochi Next Gen Ragazzi per questo sabato ho deciso di portarvi Umbrella Corpse Il gioco, lo spin off di Resident Evil uscito il 21 giugno su PS4 e PC E in questo caso ragazzi lo sto giocando su PC con il pad dell'Xbox One Che ovviamente è compatibile col PC Che ragazzi andiamo a vedere insieme la prima missione che si chiama L'esperimento caccia DNA recupera i campioni di DNA Allora io non ho mai giocato solamente visto lo schema dei tasti Quindi lo creerò ora insieme a voi Esperimento mortale Eccoci qui ragazzi questo è l'inizio Allora round 1 caccia DNA l'esperimento recupera i campioni di DNA Ragazzi di fronte vedo già un simpaticissimo amico Ok fuori 1 I tassi sono quelli classici di ogni FPS ragazzi quindi Per sparare vedete potete milare Cioè è praticamente un classico FPS questo Qui avevano detto che Aveh il multiplayer Questo gioco qui è totalmente Competitivo Invece questo diciamo che è una missione per singolo È una specie di storia per singolo Nel quale invece fa Contiamo zombie E dobbiamo cercare appunto di sopravvivere a questi zombie qui Stava scritto tra l'altro sono molto affamati Non mangiano da tempo Quindi noi Siamo praticamente per loro Uno spuntino ideale Anche qua sta arrivando un altro ragazzi Questi sono i pensionati dell'Inps Guardateli bene Allora questa è della loro pensione Ragazzi dovremmo Probabilmente Oh Ragazzi dobbiamo recuperare I campioni di DNA Quindi Ah qui c'è un altro Vedete Adesso ho sentito un urlo Eh Da dove è uscito quest'altro qui Non c'era prima Ok Non l'avrò visto io ragazzi C'era uno Oh Questa dove si è uscito Guardate un sacco di Zombie Ah è questa qui Ragazzi da dietro qualcuno mi ha colpito Ma da dove? Sì io non ho visto Non ho visto Non ho visto nessuno Ah è la terra Ma ecco perché ragazzi Stava strisciando la cagna Ecco perché non la vedevo Ma che cazzo è quella Perché dal sangue? Ragazzi marinascono dal sangue Guardate Guardate qui Guardate Guardate Ragazzi Di nascono dal loro stesso sangue Praticamente il sangue Li rigenera Ecco perché prima c'era Paraliche strisciate Continuo Ragazzi Ragazzi Ho detto quanto viene Dobbiamo recuperare Praticare Con cui sulla missione Io ho 27 colpi Quindi neanche tantissimi Ce ne sono altri Vedete Ho mancato questo qui 1 2 Perichiamo Ragazzi Guardate 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 Ragazzi Guardate Noi siamo Al tempo Di alzarti Ma al tempo Di alzarti Un altro ancora Ci sei Quasi Ragazzi Ci siamo Quasi Quindi Oh merda E muori Perché non muori Ragazzi Sopravvissuto Si sto cazzo Se poi non mi prendeva Non ero sopravvissuto Ok ragazzi E sfidimento Completato Caccia Al DNA 3 minuti 52 220 Punteggio 22 Ragazzi Quindi abbiamo Completato La prima Missione Introduzione Fattore 1 Questa è la seconda Missione Allora Round 1 Caccia Al DNA Esprimente Recupero i campioni Di DNA Quindi Devono di nuovamente Recuperarli E qua Già vedo Ragazzi I nostri Simpaticissimi Amici Che già Ci danno Il Benvenuto Se niente Si arrabbiato Perché ho sparato E non muore Senti ragazzi Non muore Ha il corpo Continua a camminare Anche senza testa Qui Niente Avete visto ragazzi Si stava creando Già Una Massa Qui Per Tipo Farveni Pono Zombie Cosa c'è Qui Ragazzi Un'arma Si raccoglie X Ragazzi Abbiamo cambiato Arma Abbiamo preso Presumo Mitragliatore Vediamo un po Proviamolo Subito Si ragazzi Guardate Madonna Che figata Ragazzi Con il mitragliatore Ci sarà Da divertirsi Vediamo Ne fate un po La piantina Che Io Presumo Che questi qua Viola Devrebbero essere I Campioni Di DNA Allora Ragazzi Promi Ci diverti un po Qui Per un altro Per un altro Un po Se ce ne sono altri Si eccolo qua Un altro Oh Merda Che cazzo Ragazzi Guardate Come striscia Il pit Un altro Si Questi qua Che strisci Non sono Veramente Veramente Cazzuti E cattivi Sti qua Strisci Anche Danno più Cazzacoli Che strisci Che questi qua In piedi Che sono Lenti Stupidi Che stisci Qua se ne rigenerano altri Guardate qui un altro Qua si sta rigenerando un altro ancora Che fortuna che ci ha dato la mitragliatrice perché Ragazzi ci ha dato la mitragliatrice Ragazzi qua ci sono ancora altri E' anche colpito Perché dopo che dopo che li avete eliminati guardate si continuano a riformare da questo sangue che si era creare Un vero e proprio problema Poi anche tu Tipo di tante bisogna Oh merda Ragazzi qua una strage di zombie non arriva nessuno Oh merda ragazzi ho finito i colpi con la mitragliatrice Ho dovuto fare lo sbuffone Ora la sto pagando Questo qui ora ci viene a prendere La fortuna che abbiamo la nostra fedelissima pistola Che è molto più precisa Ok Sei quasi Ragazzi non manca molto Quindi Sopravvissuto Ce l'abbiamo Fatti si tu Qualcazzo che uccidi ecco qua E' esperimento completato ragazzi Ok abbiamo finito Ancora un altro livello In punto 59 290 29 zombie ci si dice Meno 7.27 Non lo so Forse rispetto all'altra missione Ci ho messo 7 secondi in più Vabbè Sti cazzi mi vede da dire Ok ragazzi con questo si conclude il primo video sul gioco Umbrella Corps Spero che vi sia piaciuto Se è così lasciate un commento Fatemi sapere che cosa ne pensate Se volete vedere altri video Mi raccomando Spolliciate anche per farmi capire che vi è piaciuto Se non l'avete fatto iscrivetevi al canale E consigliatevi i vostri amici Se volete condividete questo video Qui sotto come sempre ragazzi Iscrivetevi al canale Qui da AngeloNegro83 Ci vediamo al prossimo video E ciao gamers Iscrivetevi al canale